Il leader dei ribelli, Abdul Malek Al-Uti, ribadisce in un raro intervento l'impegno a combattere per la conquista dello Yemen. Ma il suo principale alleato, l'ex presidente Ali Abdullah Saleh, dichiara di condividere gli sforzi dell'ONU per giungere a un cessato il fuoco. Si delinea così per la prima volta una frattura nella variegata coalizione che punta al controllo dello Yemen e che dal settembre scorso ha conquistato la capitale Sana'a. Gli attacchi aerei della coalizione, guidata dall'Arabia Saudita, sono giunti alla quarta settimana e non accennano a diminuire. Uno di questi attacchi avrebbe colpito un deposito di materiale umanitario, secondo quanto denunciato dall'Oxfam. Riyadh però si è detta disponibile ad accollarsi l'intero ammontare di aiuti umanitari che le Nazioni Unite ritengono necessario, pari a 250 milioni di euro. Stamani un'esplosione in una base missilistica nei pressi della capitale, in seguito a un attacco aereo, ha provocato diverse vittime. Il conflitto yemenita vede schierate l'una contro l'altra le principali potenze regionali, Arabia Saudita da una parte e Iran dall'altra. Grazie. Grazie. Grazie.